schermo da computer rivisto dal designer Johnny Schiavo per creare un oggetto high tech innovativo un vassoio per mettere qualsiasi cosa per non gocciolare un vassoio high tech lanciato nel futuro perché qui siamo nel futuro questo è un vassoio oppure può essere anche semplicemente un appoggia vettovaglie pentole per non rovinare il tavolo in questo caso un tavolo di alto design in frassino però la novità di un vassoio ricavato da un oggetto del nostro presente del nostro futuro uno schermo da computer lo sto sperimentando non ho rovinato il legno in questi giorni ho fatto colazione oggi non ho più macchiato il legno ci sono mille vassoi se voi guardate in internet ma un vassoio d'autore pezzo unico un vassoio high tech disegnato da Johnny Schiavo di un vassoio di un vassoio di un vassoio